ola oggi video applicazione e review del nuovissimo mascara ciglia sensazionali della maybelline mi aveva già incuriosito in pubblicità vi dirò la verità poi mickey mi ha detto che era bello e allora l'ho acquistato l'ho trovato in promo a 9 90 sono 9.5 millilitri nero ed è mascara effetto ventaglio adesso vi faccio vedere le mie ciglia senza terribilmente senza trucco ho solo la crema idratante le mie ciglia senza niente adesso lo andiamo ad applicare assieme questo è lo scovolino con un po di curvatura non è per niente grumoso pastoso lo applichiamo scovolino è molto piccolo cioè non è eccessivamente cicciotto quindi va bene anche per le ciglia piccoline che sono vicino al condotto lacrimale si stende benissimo ed è ottimo ve lo faccio vedere anche per le ciglia inferiori perché non sporca le acchiappa tutte ma non sporca e adesso la differenza ecco qua guardate un po senza e con adesso faccio anche l'altro guardate un po che figo ho voluto fare il video perché è semplice far dire che un mascara allunga e funziona quando si hanno già le ciglia molto belle molto lunghe però quando siano le ciglia molto corte come le mie anche chiare la ricerca del mascara è un po più ardua e quindi ho voluto fare il video perché sono rimasta veramente veramente entusiasta guardate che è veramente cioè le allungate veramente tantissimo è ottimo anche per fare l'esterno delle ciglia quindi per fare i ciuffetti laterali e bisogna applicarlo sulle ciglia perfettamente pulite e per eliminarlo invece uso il bifasico perché è bello è bello nero è bello bello carico mi piace tantissimo ve lo straconsiglio se avete le ciglia già lunghe e cioè vi fa proprio l'effetto super super cerbiattina se avete le ciglia corte come le mie guardate che risultato stra promosso veramente un ottimo acquisto sono molto molto contenta e spero che il video vi sia piaciuto di di esservi stata un po utile vi mando tanti baciottissimi e al prossimo ciao